Come direbbe Guido Meda adesso, la fortezza c'è, la fortezza c'è, la fortezza c'è, la fortezza c'è. Attenzione, potrebbero dire, non ci prendono più, non ci prendono più, ha vinto la fortezza, ha vinto la fortezza. La straordinaria voce di Paolo Mastracca ha segnato la vittoria del Rione Fortezza, l'81esimo palio marinaro dell'Argentario, un ferragosto che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso per via dei continui blackout. Al momento i guasti non sono risolti, ma Enel ha provveduto con dei generatori. Sotto il profilo della gara è stato un testa a testa tra Fortezza e Valle, entrambi dati per favoriti, più indietro Croce e Pilarella. La fortezza è in testa, la fortezza è in testa, di poco, di poco, ma ha aumentato il vantaggio. Per volontà del lente palio e di chi era la conduzione della diretta televisiva, sono state ricordate le figure che per prime si sono accorte della bellezza di questa manifestazione e l'hanno portata all'attenzione del grande pubblico attraverso il piccolo schermo televisivo, Nedo Settimelli ed Edoardo Carrai. Una carezza per la nostra redazione che non dimenticheremo. È stato un giorno nero però per tutto l'Argentario, i continui blackout hanno rovinato un giorno di festa per i molti turisti, la manifestazione per fortuna si è potuta tenere senza intoppi. Come scrive il collega Vittorio Patanè dalle colonne di Maremma oggi, lui sì che di pali ne ha raccontati, il palio è stato un raggio di sole in un giovedì nero, adesso c'è l'ipotesi ticket di ingresso per il giorno di ferragosto proprio per evitare il sovraccarico che per i tanti turisti presenti potrebbe essere stato alla base dei blackout, ma questa è un'altra storia. Intanto il Rione Fortezza si è goduto la vittoria e la festa, una festa per tutta la costa d'Argento che ogni 15 agosto vive il suo giorno più magico. Il tabù è stato infranto!